Se ti piace la frutta Da che parte, Tessa? Il palazzo del governo è da questa parte Ovviamente non c'è una sega Con fani dell'auto nulla Che bello, sento già rumori di clicker Ma che bello Forse entrando nella casa? Sono solo runner, vero? Uno è l'altra porta Stanno dormendo Sono tutti runner Uno Due Vabbè, sì, qui è ancora semplice prenderli Vedrete dopo Tre Meno male si chiama uccisione furtiva Bello Coerente Nastri e forbici Utili per Un cazzo Tutto bene Manco quello Ok, John Quel che finisce bene Salite Aspetta un secondo Aspetta, aspetta un secondo Ma io solo ci posso andare Tipo C'è altro da rubare qua dentro? Ma che volte, sapete Il dubbio mi sorge Poi Magari C'è mai un cazzo, eh Però Il dubbio mi sorge sempre Ok Qua c'è Il garage Da aprire Infatti Apriremo Potremmo tagliare di qui Se vedi che generata Che gli è venuta a mente Dai Ah, tenuto premuto Ok Merda Godo Non lo sfonderete mai La sua mano? Sì Siamo al sicuro qui? Intanto io Ci resterei per un po' Ma poi fai tu, eh Ok Il banco da lavoro È delizioso Ancora cosa c'è? Questo è qualcosa per forza L'accesso è vietato Come accidenti Hai fatto entrare Appunto Beh Ho i miei segreti Comunque Uno di quei Allora, 20 integratori Praticamente La cosa più economica Che c'è Ovvero Distanza modalità d'ascolto E la prossima Sarà la velocità creazione Che È utile Ma fino a un certo punto Ho chiesto aiuto Soltanto dopo Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato Stava per farlo Spero stia bene Te l'ho detto Sessantotto L'uscita ti ricarica? Sicuro Facita il caricatore Stesso movimento Con l'aggiunta del culetto L'uscita ti fuoco Se no L'altra arma Che c'ho Bene Mi ricarica Torniamo a ritare l'altra E mettiamoci Questa La velocità di fuoco Anche qua Perfetto Ora Non vorrei raccontarvi Una stronzata Però Io credo Che Sulla versione PS4 Queste Motions Non ci siano Quando modifichi l'arma Poi ripeto Magari Mi sbaglio Sicuramente mi sbaglio Però io non mi ricordo Anche perché Te lo ricorderesti Ecco Ok Del revolver Non si può aumentare Il caricatore Vuoto Grazie Grazie Mi ti prenderei a schiaffi Quando mi dai cassetti vuoti Giuro Due porte da aprire Una Una E due Che poi porta qui Alla fine Quindi buona Ora partiamo da qua Casetti Nulla Invece si Forbici Che vuole la bambina Adesso c'ho le forbici Ma che il nastro Sarola Ok Metti la via Che mi fa paura Allora Vediamo cosa c'è Sul banco qui Peccato Potrei metterci qualcosa Stardo Beh se mi fai camminare così fino là Vuol dire che qualcosa Mi ti dà per forza Infatti vedo qualcosa Che luccica Una piastrina Lucidi Keeper Che cazzo sia Si va bene Ma può anche saltare Si può anche saltare Che palle Ok Ma merda È un vecchio museo Queste cose hanno Centinaia di anni Per averanno Per averanno gli infetti A distruggerle Anyway Ok Dimmi che c'è il nastro Ma C'è proprio un cazzo Qualche Qualche mi tocca abbassarmi Che cosa mi dai Voglio una cosa Su lei il nastro Ok Io ho la testa Forza Via 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 Joel Joel Solo qui Joel Trovo Il mondo di arrivare Arrivano Tess Corri Corri Beh Almeno Notizia positiva È che i clicker Sono di là Eh ma Tanto poi ci tocca Uguale Di buona Il capottone È proprio qui Tutti i clicker Mare Ma Pesta La ladra Finiti I cortelli Ok Rimango le molotov Very nice Possono anche fabbricarli Fanculo Vediamo se Tirandolo Laggiù L'unica soluzione Che mi rimane È fare così Uno brucia Anche l'altro Dimmi che brucia Anche l'altro Sì Uno fuori A posto Mali estremi Estremi Rimedi L'abbè L'ho fatto con classe L'ho fatto con Quello che avevo E adesso Non ho più un cazzo Che bello Ma Ma Mi chiedo Quelle due Lì Come Cazzo Hanno fatto A scappare Da questi Qui Io Me li son Dovuti Pur uccidere Ok Prima di Fare il passo Più lungo Della gamba Esplora Tess Seguiti da qua Tess Merta Eh Tess Nastro Sì Scuole Chiuse A Napoli Appunto Kit medico Non lo prendevi Per fortuna Con la salute Si è messi bene E allora Qua posso aprire Sì Coltello Completo Tanto non posso neanche Fabbricare Quindi Buona Ciao Guardi Era tipo La miniera d'oro Lì dentro Infatti Già vedo la roba Che palle Vabbè Niente Il piano È saltato Li sento Già Li sento Già Mi prego Mi prego Datemi un livello Con Gli soldati Sono a mettere Ansia Adesso stai zitto Sono io Sono io Un massacro Un macello Lì dentro E' così che combattono i maschi Vai 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 fuori uno Oh Cazzo Vai Finiti Credo di sì No Metti un cazzo Così Così C'è la finestra aperta Ci credo che sti qua entrano, no? Ma chiude la finestra, no? Bello, con poca vita Così si fa Ma mica è così che fanno i campioni C'è un cazzo qua dentro Che vuole lei? Ok, allora sto bene Qua cosa c'è? Cazzo Se mi butto è la fine Poi la tà potrebbe anche atterrare vivo ma Sapete come funziona Paisaggio nella Edizione remaster It's very beautiful Mamma mia Love it Troviamo come andare di là Ecco, è quello l'edificio Ti piace? Ecco, a me no Trasporta Indietro Credo debba Credo debba mettere lì Yes Non regge Non regge Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto Certo che La vista è spettacolare Andiamo Di qua Ehi Sbrighiamoci Voto a caso Ci siamo quasi Non destrarti Sì signora So Chè Sì signora Sì Sì signora Adesso Sì signora Sì signora